Francesco Totti e Ilari Blasi festeggiano il compleanno di Isabel, identica alla sua mamma, foto. Il 10 marzo la figlia di Francesco Totti e Ilari Blasi ha festeggiato il compleanno, foto. Isabel Totti, la più piccola di casa, ha compiuto due anni e il suo papà ha pubblicato su Instagram una foto meravigliosa che mostra anche la somiglianza tra madre e figlia. E siamo già a due, buon compleanno vita mia, ha commentato l'ex capitano della Roma sul suo profilo social mentre tutti oltre a fare gli auguri alla sua bimba evidenziano proprio quanto la dolce Isabel sia simile a Ilari Blasi. Love, vita mia, principessa e buon compleanno gli hashtag scelti da Totti che mostra essere più social di sua moglie. Sulla pagina Instagram della Blasi ha il suo staff a condividere la stessa foto sottolineando quanto sia cresciuta la principessa di casa Totti. Capelli biondi, occhi grandi e azzurri, un sorriso che incanta e sembra davvero di vedere Ilari da piccola. La figlia più grande, Chanel, somiglia invece di più al suo papà. Entrambi i fratelli, Chanel che ha 10 anni e Christian che ne ha 12, hanno desiderato tanto che nascesse una sorellina e adesso la coccolano tutti. L'ex numero 10 festeggia così i due anni della terzogenita sui social ma non c'è traccia della festa di compleanno, il party organizzato per la bimba. Da sempre i Totti sono molto riservati, tengono alla privacy, proteggono la loro famiglia lasciando il più possibile lontani telecamere e fotografi. Quando Francesco e i tre figli sono apparsi in tv in una delle puntate del Grande Fratello Vip anche la stessa conduttrice fu sorpresa dalla scelta del marito di portare i bambini in studio. In realtà la coppia non appare spesso nemmeno agli eventi mondani, rare le loro foto in giro, mentre quando sono in vacanza e nei vari viaggi in giro per il mondo i paparazzi riescono quasi sempre a beccarli. I Totti si fermeranno a quota tre figli o Hillary Blasi come ha intenzione di proseguire con il quarto.